Un bacio a Gossip News Giulia è una ragazza che fa parte della cosiddetta Roma Bene degli anni 70, vive a Prati, quindi è circondata da le convenzioni borghesi dell'epoca. La sua vita è tutta casa, scuola, amici, inglese, insomma e nient'altro, fino a quando poi incontra Andrea che è l'esatto opposto, che vive assecondando molto di più se stesso, con gli amici si gode la vita, insomma. E quindi si lascia stravolgere totalmente, è coinvolta profondamente, si innamora fuoriamente come giusto che sia poi a 17 anni e quindi la sua vita cambia. Giulia! Scendi! Ma questo è un matto del tutto! La ragazza di Pisonella ha partito per la far militare, che ragazza ne ha trovato subito un altro? Andrea! Gioco in la testa! Le chiedo solo un permesso capitano, anche poche ore, solo per salutarla. Tu non ti muovi da qua dentro per tutta la settimana. Questo piccolo grande amore per me ormai non è più soltanto una canzone, è proprio se vogliamo in un certo senso uno stile di vita, è quel punto di vista che ti fa vedere la vita libera, piena, che ti fa amare a 360 gradi e che ti sprona proprio dall'interno, è un fuoco dentro ormai. Come ti senti adesso che sta per uscire in sala? Agitatissima! Terrorizzata direi! Ti dico solo una cosa, stamattina ho chiuso dentro le chiavi di casa, cioè ho chiuso la porta e le chiavi stanno dentro e non so come faccio stasera a tornare a casa, pensa come sto! Penso che l'amore possa superare tantissimi ostacoli, però magari vivere a distanza per un periodo sì, però vivere a distanza proprio, cioè affrontare un amore con io che vivo qua e te che vivi a, che ne so, 40.000 km, la vedo poco probabile, perché per me l'amore è fatto di quotidianità. Quindi una cosa è stare insieme e poi dover affrontare un periodo, una cosa è vivere l'amore separati, non è amore. Con Emanuele mi sono trovata benissimo perché abbiamo lo stesso modo di affrontare il lavoro, nel senso che siamo tutti e due molto giocosi, però poi sappiamo bene quando è il momento di staccare la spina rispetto a quel senso e di concentrarci esclusivamente sul lavoro. Quindi in questo è stato, lui mi è stato poi comunque molto vicino anche sul set, ci siamo confrontati spessissimo anche con Riccardo, abbiamo proprio avuto confronti continui.